In varie occasioni della mia vita mi hanno detto, ma come pensi di farcela? Beh, insomma, abbastanza spesso ce l'ho fatta, ecco. Io e questa volta il Governo ce la fa. Quindi bisogna avere fiducia e contare sull'aiuto del Parlamento più che guardare al Parlamento per la sua diversità di opinioni come un ostacolo.